Okinawa a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans signori e quest'oggi siamo qui con un video dove andiamo a spendere tanti tanti milioncini e siamo sul secondo account ma prima di iniziare voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione c'è il link della mia mazzo wishlist se volete passarci a darci un'occhiata e a rifarmi un regalino io ne sono molto molto onorato inoltre c'è il bellissimo sito di Ko-fi dove potete fare la tazione singola o a cadenza mensile scegliete voi il pezzo, scegliete voi tutto, direi che è molto molto onesto voglio soprattutto invitarvi a condividere il video con i vostri amici e iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato tutti i giorni 14.30 puntuali sul canale mi raccomando ma basta parlare oltre signori andiamo a vedere un pochettino quali sono i miglioramenti che possiamo fare questo oggi allora io ho messo a fare come vedete il municipio a livello 15 lo abbiamo portato avanti anche se non tutte le difese erano maxate signori perché purtroppo avevamo tutto il laboratorio completo per le truppe che noi andiamo a utilizzare quindi regà ci conveniva aumentarlo ovviamente poi lo devo anche alzare di livello ma non è un problema non è un problema mentre abbiamo messo a fare i sgheretti a livello 10 che sono tanta tanta roba per quest'oggi avevo pensato di fare un livello del sorvegliante che lo abbiamo al 23 qui ci mette due giorni quindi prima delle cvl comunque ce la facciamo però il discorso è che forse è meglio che io vado a potenziare il laboratorio penso che sia la cosa migliore purtroppo abbiamo soltanto tre costruttori liberi quindi dobbiamo stare attenti a utilizzarli al miglior modo perché gli altri due stanno mettendo le torri degli incantesimi finalmente le stiamo sbloccando le ho già messe tutte quante i murettini sono già tutti quanti pronti direi che possiamo iniziare con i primi miglioramenti allora 9 milioni e 600 ce li spendiamo subito tra l'altro non so se continua la ricerca penso di sì in teoria dovrebbe continuare me lo auguro sarebbe bellissimo che continuasse anche la ricerca penso proprio di sì e fino a qui ci siamo adesso cosa andiamo a migliorare? possiamo migliorare due strutture con 18 milioni con 18 milioni perché tra l'altro non abbiamo la runa andiamo a vedere un attimo gli artefatti non abbiamo la runa dell'oro ma abbiamo quella dell'elisire che potrebbe aiutarci a fare molti molti murettini potrebbe essere bello interessante un libro delle pozioni ma tanto non ci serve perché purtroppo il laboratorio è già occupato direi che possiamo fare intanto un murettino con tre anelli di mura così ce le leviamo di mezzo signori e siamo a posto andiamo a vedere le difese con 18 milioni che difese ci mettiamo a fare? allora vediamo un po' le difese più basse attualmente da dover alzare sono i mortai sono i mortai che ne abbiamo ben 4 da alzare 6 milioni e 4 direi che possiamo metterci cioè 6 milioni e 4 per perfezionarne 1 e farlo diventare triplo quindi ce lo spendiamo subitissimo poi ci andiamo a mettere ci andiamo a mettere prima di mettere le altre cose tra l'altro fermi un attimo vediamo quanto costa perché ci facciamo qualche murettino ci facciamo qualche attacchettino ci facciamo un po' di cosette tra l'altro questo non ci ha consumato il costruttore perché è venuto dal secondo villaggio quindi ottimo ottimo buono molto molto gustosa questa cosa vediamo un pochettino abbiamo la torre dell'arciere 8 torri degli arcieri sono quelle che ci costano di meno attualmente 8 torri dello stregone quando alla fine il prezzo è lo stesso quindi direi che possiamo iniziare con la prima torre degli arcieri abbiamo i soldi anche per fare la seconda ma prima di ciò ci sprechiamo un po' di elisire che noi abbiamo innanzitutto ci andiamo a fare qualche bel murettino bello prepotente e così regà ce ne abbiamo fatti già un botto belli belli poi abbiamo un milioncino con un milioncino purtroppo non riusciamo a fare un altro muretto ma non mi va di sprecarlo un milione quindi un muro ci costa 2 milioni e 4 con due attacchi se noi riusciamo ad accumulare un milioncino in due attacchi ottimo regà così poi ci usiamo la runa dell'isire voglio controllare un attimo anche qui perché ci manca qualcosa tipo 150 123 cosette di queste rosa per fare finalmente il pupazzo del guaritore maxato quindi attendiamo quello lì andiamo a vedere nella ricerca dei famigli se possiamo potenziare qualche famiglio possiamo alzare magari anche volendolo yak un giorno e 14 ore lo possiamo mettere a potenziare ma magari ce lo mettiamo più tardi perché adesso lo utilizziamo per fare l'attacchino quindi andiamo a cercare subitissimo il primo attacco regà e vediamo se troviamo bello questo c'è già un milione ecco cioè regà questa è abbastanza easy da attaccare quindi noi ce lo attacchiamo così ci siamo fatti già il milione che ci serviva preciso preciso per il nostro murettino bello bello prepotente vai diretti così regà senza pensarci troppo andiamo a piazzare furia e furia l'attacchio dei draghi elettrici regà è relativamente sono abbastanza semplici basta semplicemente mandargli a cazzo duro verso il centro del villaggio mettiamo la gelo fortuna che l'ho piazzata un pochettino più là così ha preso anche il monolido ottimo così un'altra gelo la piazziamo lì sopra regà in teoria erbillo ce lo siamo distrutto vabbè questa era facile infatti c'era scritto free loot che tra l'altro l'ho notato soltanto adesso che c'era scritto free loot gigibro grazie per il loot noi l'abbiamo preso molto molto volentieri quindi attiviamo l'abilità del re barbaro l'abilità della regina sono rimaste pochettine poche cosettine e tra l'altro le tre stelle ce le facciamo tutte quante perché così in questo modo possiamo prendere magari anche il bonus delle cinque stelle quindi è interessevole è interessevole 100% dai veloci veloci su quanto ci mettono madonna tutti i draghi sono rimasti comunque in vita quindi ottimo regà ci abbiamo i soldini per fare l'ultimo murettino per il momento l'ultimo murettino per il momento altri 200.000 altri 200.000 che sommati a questi qua ci facciamo un altro muretto bello bello gustoso con il secondo attacco signori andiamo a mettere in addestramento e ci facciamo il secondo attacco proprio quasi de prepotenza ce l'andiamo a cercare subito diretti sperando bello questo questo c'ha un fottio di risorse ma è un villaggino molto molto esteso soprattutto un TH quindi 16 un TH 16 non maxed ok in realtà potremmo provarcelo ad attaccare mh regà qua io sento puzza de fail grossa come una casa ma enorme secondo me non ce la facciamo però io ci voglio provare non me ne frega niente vai è brutta regà filiamo e sti cavoli no direi anche sti cavoli però speriamo di riuscire intanto io ci metto tutti gli eroi così magari buttano giù la eagle non sarebbe male se ci buttano giù quella bruttissima igles che si trova lì e poi ci piazziamo tutto il resto sotto così vai diretti furia furia una piccola gelo lì sopra l'abbiamo bloccato anche se un raggio è partito lo stesso ma va bene blocchiamo la gelo blocchiamo il monolito di nuovo furia e l'altra furia la mettiamo lì sopra stiamo attenti all'abilità del sorvegliante che l'attivo adesso per forza regà stiamo entrati siamo entrati all'interno del billo molto molto prepotentemente dobbiamo stare attenti alla torre inferno lì sopra che potrebbe darci molto 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 fastidio vai re barbaro ti prego distruggila distruggile portaci a casa la vittoria ok l'ha distrutta il re barbaro ancora in vita per poco abbiamo perso quasi tutte le strutture l'unico problema è questa torre inferno qui sotto che potrebbe darci problemi ci ha decimato i draghi però l'hanno buttata giù regà l'hanno buttata giù attenzione è rimasto soltanto due cannoni una torre dell'arciere qui sotto e il municipio in teoria noi dovremmo aver fatto altre tre stelline in modo molto molto easy sempre se la regina non si incastra male a fare i vari muretti io mi auguro che vada diretta su queste difesine qui sopra in alto e poi sul TH vediamo speriamo soprattutto è full beat ci abbiamo ancora l'abilità l'abilità una volta attivata abbiamo altre tre mega curatrici che ce la refullano io voglio aspettare per attivarla perché è questo il momento in cui la devo attivare purtroppo perché adesso sono sicuro che la regina si blocca su un muretto ma me c'ero giocato l'anima io signori lo sapevo la regina forse forse non ce la fa si si dai c'ha pochissima vita il municipio dai dai regina ok adesso raga è rimasto soltanto da buttare giù queste poche cosettine più che altro è perché voglio prendere tutto l'intero elisir che c'è per noi non tanto per il 100% perché sapete che a me interessa poco se fondamentalmente facciamo tre stelle o ne facciamo soltanto due l'importante è prendere tutte le risorse possibili quindi raga ci siamo è tanto facile oddio non è rimasto nient'altro no esattamente solo queste cosettine quindi ottimo tre stelline belle belle pulite ce le siamo portate a casa così ottimo ottimo direi che buone risorse ci abbiamo un milione e duecento madonna quante risorse il per quattro che ci dà signori andiamo a prendere in tesoreria tutte le risorsine belle quattro milioni quattro milioni signori cavolo cavolo per pochissimo un milione e seicento lo dobbiamo buttare vi pare logico vi pare logico a me no però purtroppo è così allora la torre degli arcieri quanto ci costava sei milioni e quattro sei milioni e quattro possiamo utilizzarci tra l'altro ancora un po' di oro per fare un murettino un altro murettino e ci fermiamo così perché poi non ci basta più ci andiamo a fare un refill dell'elisir 20 milioni ce li spendiamo tutti i muri quest'oggi è la giornata dello spendi tutto sui muri spendiamo qualsiasi cosa sui bei murettini tanto prima o poi dobbiamo comunque alzarli quindi ci sta purtroppo abbiamo pochi muratori con l'elisir siamo a fare veramente poca roba quindi va benissimo così ci siamo fatti uno scatafascio dei muri abbiamo quasi completato il quadratino tutto intorno al municipio ottimo io sono molto molto contento andiamo a vedere prima di concludere questo episodio tra l'altro mettiamo in addestramento le prossime truppe per magari fare qualche attacco dopo farò io off camera andiamo a vedere quale possiamo mettere tra questi qui in realtà l'unicorno non sarebbe stato male ma quattro giorni è un po' tantino perché siamo vicini alle cv le mancano circa due giorni e raga non si può fare io direi che possiamo alzarci lo yak ci alziamo lo yak visto che sta che è il più basso di tutti ci vuole un giorno e quattordici ore con novantaseimila direi che ci lo mettiamo ci mettiamo anche un velocizzo così molto molto onesto e con l'ultimo costruttore ci andiamo a mettere l'ultimatore degli aceri tra l'altro dove l'abbiamo posizionato questa sta qui io direi che ci mettiamo quella proprio all'estremo opposto andiamo a posizionare questa qui signori e direi che per questo video per il momento è tutto io vi invito a lasciare un bel like se vi piace questa serie e soprattutto per supportarmi un bel commentino con scritto cosa ne pensate se abbiamo fatto bene a spendere tutti questi soldini sui muretti se abbiamo fatto bene ad alzare il TH a livello 15 visto che eravamo bloccati con il laboratorio le truppe non potevamo più alzarle e in attacco ci serve avere le truppe più potenti possibile quindi scrivetemelo qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi secondo me è stata diciamo la scelta un po' più logica da dover fare anche se non era tutto quanto maxato ma ci sta soprattutto voglio invitarvi a condividere il video con i vostri amici importantissimo perché più siamo e meglio e soprattutto ad iscrivervi al canale perché ho visto che molti di voi non sono iscritti ma guardano i miei video a voi non costa nulla a me fate un piacere enorme se attivate anche la campanina rimanete sempre aggiornati su tutti i video che vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato tutti i giorni 14 e 30 puntuali sul canale mi raccomando se volete passare anche da instagram dove ogni tanto faccio qualche storiellina di avvertimento che è uscito un nuovo video o di progetti futuri per il canale dateci un'occhiata a me fa comunque piacere e niente qui da Ciris è tutto un salutone bella raga ciao